buongiorno buongiorno a tutti voi buongiorno stamattina insomma oggi ho deciso di fare i chips di carote così almeno non mi sento un colpa sgranocchio qualcosina volentieri e non ho sensi di colpa io uso due carote questa è per una porzione diciamo che ne mangerei quattro ma mi fermo a due carote paprika dolce e sale puliamo le carote vedete ho pulito le carote con la patate insomma per la verdure e ora sempre con per la patate farò delle strisce fine ecco qua vedete con il per la patate vengono proprio fine fine in questo modo e ora mettiamo un po di sale un po di paprika come ho detto io voglio mettere un po di aglio un polvere poco poco e un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine un cucchiaio vedete mescoliamo bene 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 in questo modo e io li metto nel cestello della friggetrice in questo modo se non avete la friggetrice potete usare il forno ventilato 180 gradi per una ventina di minuti poi date un'occhiata insomma via io lo metto in questo momento nella friggetrice ecco a voi le chips di carote già pronte credetemi sono sono squisite io l'ho dimenticato un minutino più infatti si vede sono un po troppo abbrustolite un quarto d'ora a 180 gradi va più che bene sono veramente ottimi per bambini si possono fare anche le zucchine così salutare veramente veramente buone 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 provate a farle